Passo adesso la parola e presento Anna Risa Rossi, soprintendente archivistica e bibliografica della Lombardia, della soprintendenza, nonché ad Interi, ma anche della Puglia e della Basilicata, con un ruolo duplice, da una parte anche lei istituzionale con il suo intervento, ma anche introducendo, quello che poi chiediamo a tutti, l'esperienza concreta di un progetto, di un esperimento, che prende il nome di base, l'acronimo, Bacheca Semiologica, ed è questo il titolo, Bacheca Semiologica Base dagli archivi in poi. Quindi io lascio la parola ad Anna Risa Rossi, che ringrazio, e l'ascoltiamo tutti. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Lorenzo, grazie Gabriele per l'invito e saluto tutti gli amici, colleghi, interlocutori istituzionali qui presenti e coloro che ci ascoltano a distanza. Come diceva bene Lorenzo, io qui compaio in duplice veste, di fatto in un'unica veste, che poi è l'unica possibile per chi esercita una funzione come quella della tutela in capo alle soprintendenze come me. Il ruolo è evidentemente, il cappello è senza dubbio istituzionale, nella misura in cui provo qui a testimoniare una riflessione prima sui bisogni di comunicazione dei temi della tutela e della valorizzazione archivistica, ha bisogno che si sono configurati secondo forme nuove, in qualche caso più urgenti nel corso del periodo pandemico, per poi provare a trovare una risposta nel disegno e nella costruzione di proposte ulteriori rispetto a quelle tradizionali. Io ringrazio molto anche le colleghe Vertecchi e Gigante che sono intervenute subito prima di me qui nel racconto dell'esperienza di Regione Lombardia che fa il punto e fa la sintesi su quello che c'era e che c'è stato negli anni passati e rilancia in una prospettiva futura. Intanto per raccogliere l'assist e l'invito a interagire che nel mio caso è innanzitutto istituzionale evidentemente rispetto all'attività di vigilanza che nel metodo e nel merito si compie sia sui soggetti coinvolti nella rete che Regione Lombardia intercetta con i suoi generosi interventi e la sua attenzione rispetto al territorio regionale, sia rispetto a Regione Lombardia stessa e alla produzione di archivi da parte di Regione Lombardia e di questo si parla quando si parla di portali, di siti, di banche dati eccetera. Per cui da parte nostra sicuramente, ripeto, oltre all'assetto istituzionale che lo rende necessario, tutta la disponibilità e tutto l'interesse a co-costruire un percorso ulteriore che veda non solo i diversi soggetti istituzionali ma le diverse esperienze, le diverse sensibilità. Perché no? Gli obiettivi differenti, le ragioni differenti a fronte delle quali ciascuno di noi interagisce con il contesto territoriale, con le comunità di riferimento per comunicare gli archivi e o comunicare le funzioni istituzionali in capo a sé, ma anche proprio per creare una rete di queste esperienze, cioè non solo i soggetti ma una rete delle esperienze. Cosa questa che di fatto è già successa in numerosi casi con diverse delle persone, perché è virtuale, nel corso dell'anno. Proverò a essere un po' più chiara tenendo l'esperienza di bacheca semiologica come esempio di percorsi attivabili. Cos'è bacheca semiologica? Da cosa nasce? E perché si configura di fatto come uno spazio istituzionale e pubblico? Nel corso della pandemia, lo si è detto diverse volte, da subito abbiamo avuto tutti l'esigenza, tutti istituzionalmente intendo, l'esigenza di trasferire, perché questa è stata l'esigenza nell'immediato, di trasferire quella abitudine, quella dimensione, quella pratica di comunicazione che consente il contatto con gli interlocutori al di là e oltre il contatto proprio dell'azione amministrativa e tecnico-scientifica quotidiana. Abbiamo sentito il bisogno di trasformarlo in una dimensione, di portarlo nella dimensione digitale per non perdere il contatto che non si poteva più avere fisicamente. E quindi abbiamo tutti assistito, perché ne siamo diventati protagonisti, ad un fiorire di iniziative diffuse sui temi di interesse. Questo, diciamo, nella prima fase della pandemia, dalla primavera 2020 fino all'autunno 2020. Quando nel corso dell'autunno 2020 si è riproposta la necessità dopo un'iniziale apertura, le stelline dello scorso anno sono state in presenza, lo ricordavo Lorenzo all'inizio, e abbiamo discusso in quella sede di sostenibilità proponendo format e metodi di lavoro differenti, integrando le prospettive e interrogandoci, credo di poterlo affermare senza risultare fastidiosa. Penso che siamo stati tra i primi ad interrogarci sul rapporto tra archivi e sostenibilità, pervenendo a delle ipotesi di lavoro sulle quali sicuramente ancora c'è molto da fare. Dopo questo momento di apertura, poi con l'autunno ci siamo ritrovati nella stessa situazione. E a quel punto, forti dell'esperienza dei mesi precedenti, dal punto di vista istituzionale, di cui abbiamo, perché esprimo anche la voce della comunità istituzionale di riferimento, nel senso degli uffici e delle persone che lavorano con me, o abbiamo sentito la necessità di mettere a sistema i momenti di comunicazione, che in maniera anche disordinata, casuale o comunque legati a contingenze, a bisogni specifici, si erano svolti nel corso dei mesi precedenti. E di qui è nata l'idea di bacheca semiologica, cioè l'idea di attivare una piazza istituzionale, uno spazio pubblico sotto il cappello dell'ente di tutela, in cui tutti i soggetti istituzionali e non pubblici e privati, tutti i portatori di interesse, gli operatori, i professionisti, i fruitori, i cittadini interessati ai temi archivistici, potessero confrontarsi, come dire, rendere virtuale, dandogli una forma e un perimetro, quella piazza pubblica che contiene la rete civile con cui la soprintendenza archivistica e bibliografica interagisce quotidianamente, avendo di fatto tutti in casa, trasferire questa rete, questo luogo, farlo diventare un luogo vero, ancorché virtuale. Bacheca nasce da quest'idea, cioè mettiamo a sistema, costruiamo, identifichiamo un luogo virtuale in cui tutti coloro con i quali interagiamo quotidianamente possano incontrarsi e confrontarsi fuori dalle sedi e dalle forme tipiche dell'azione amministrativa o dei procedimenti tipici, possano confrontarsi sulle questioni di interesse. Questioni di interesse che evidentemente nel momento in cui a confronto vanno cittadini con istituzioni, operatori e comportatori di interesse, committenti, conservatori, proprietari, eccetera, diventa una discussione su temi di cittadinanza, diventa un incontro e una riflessione nella quale gli archivi sono il presupposto per ragionare di altro. E di cui infatti, come richiamato anche nel titolo di questo intervento, l'hashtag dagli archivi in poi. Gli archivi come presupposto di discussione e di costruzione di un senso comune, di una consapevolezza comune della cultura archivistica. Quindi una piazza pubblica di natura istituzionale in cui tutti si confrontano su temi archivistici a partire dagli archivi per condividere la consapevolezza comune degli archivi che è consapevolezza di cittadinanza, che è un modo possibile, uno degli infiniti modi possibili, di recare il proprio contributo alla costruzione di quelle competenze chiave di cittadinanza nelle quali l'Unione Europea individua le leve strategiche per lo sviluppo degli individui, delle persone e delle comunità di riferimento. Dal punto di vista dell'esercizio della funzione di tutela, questo tipo di attività, una comunicazione istituzionale così configurata è assolutamente strategica e fondamentale per generare negli interlocutori la consapevolezza del patrimonio e della imprescindibilità dell'azione di tutela in quanto dispositivo di cura delle comunità, dispositivo capacitante, dispositivo che consente alla comunità di ragionare sul patrimonio in termini sostenibili, perché senza la tutela come dispositivo di cura il patrimonio non esiste e quindi in termini, in ragionamenti di tipo sostenibile significa che si consuma l'energia all'interno di un sistema, prevale l'entropia e il sistema implode e il sistema che la comunità di riferimento rappresenta viene meno. Questo è un po' il link anche fra il ragionamento di oggi e tutta la discussione compiuta lo scorso anno in questo stesso contesto, sebbene in presenza, l'esperienza di bacheca semiologica e la prospettiva futura. Perché bacheca semiologica? Perché l'acronimo base? Cosa è successo? Come l'abbiamo configurato? Bacheca semiologica, intanto bacheca perché l'idea è proprio quella di una bacheca digitale nella quale si affiggono degli avvisi, si affiggono dei messaggi, dei segni, dei post. Nel caso specifico i post sono rappresentati da libri di contenuto archivistico, ma anche se non esclusivamente archivistico, anche più ampio, abbiamo discusso anche di information literacy come era evidente dal momento che il contesto e gli obiettivi sono quelli che ho appena comunicato, i libri sono un post, quindi un segno semiologica affisso in bacheca a partire dal quale si rilancia su temi più ampi e si apre una discussione. Il format è molto aperto, ripeto, i libri erano e sono stati un pretesto. Ci sono stati otto appuntamenti, se ben mi ricordo, fra febbraio e maggio, due appuntamenti mensili a cadenza quindicinale, il giovedì, della durata di un'ora online, con una struttura, un format, una struttura destrutturata, nel senso che l'autore del libro usato come pretesto aveva il compito di spiegare il tema, cioè di definire il segno di riferimento. a partire da quello poi dei discassanti invitati volta per volta raccontavano il proprio punto di vista su quel tema, a partire da quel tema, con l'intervento ulteriore di quello che abbiamo voluto chiamare il disturbatore, cioè un discassanto ulteriore che sta lì a individuare discrasie fra le posizioni di coloro che intervengono, a fare un po' il controcanto della situazione per tirar fuori ulteriore valore e ulteriore riflessione dall'oggetto. C'è un format nell'esperienza di Bacheca Stemiologica che però è un format aperto, nel senso che gli interventi delle persone invitate che torniamo a ringraziare una per una non hanno mai avuto il titolo assegnato, ma è una discussione aperta su un tema. Dopodiché lo sviluppo non è preordinato, ma è quello che accade in quel contesto, una piazza pubblica organizzata, una piazza pubblica istituzionale organizzata. È molto interessante come le persone che sono qui a questo tavolo, Lorenzo Pezzica, Gabriele Locatelli, Paolo Acciandrini, Federico Valacchi, Ilaria Pesce, fanno parte del gruppo di lavoro che ha costruito, che ha ingaggiato la sfida di questa esperienza insieme a chi vi parla e altre persone come Ilaria Pesce, che hanno partecipato attivamente a questi momenti di riflessione. Molto interessante è stato come già in quella fase canali già attivi, altre esperienze che pure oggi vengono presentate, archivistica attiva, ibridamente, archivistica attiva di cui parla Federico, Valacchi, ibridamente, di cui parla Paola Acciandrini, ma anche archivissima a seguire di cui ci parlerà Manuela Iannetti, queste esperienze si sono già integrate nel loro farsi, nel senso che Bacheca Semiologica è andata in onda oltre che sui propri canali, oltre che sul proprio canale social, anche utilizzando come canali di diffusione appoggiandosi, quindi utilizzando anche i canali di ibridamente e di archivistica attiva, mentre nel caso di Archivissima abbiamo costruito, e di questo ringrazio ancora Manuela, un evento che teneva in Archivissima abbiamo ragionato di Bacheca Semiologica. E qui chiudo per rappresentare un punto di valore. Allora, intanto in questa fase si sta ragionando sulla riedizione 20-22 di Bacheca Semiologica se possibile con un format ulteriormente arricchito, consolidato in altre direzioni che possa lasciare traccia di quello che succede in questa piazza. Una traccia che non sia se possibile soltanto quella web digitale ma abbia anche altro. Ma di questo torneremo a parlarvi. lancio qui un invito alle persone presenti al tavolo e alle esperienze che testimoniano. Sarebbe molto interessante provare a costruire un luogo che tenga insieme tutti questi luoghi che li faccia parlare in maniera strutturata stabile e sistematica come di fatto già è successo in alcuni casi ma mi piacerebbe che questo tavolo e questo incontro di oggi fosse l'inizio di un sistema di queste esperienze. Torno a ringraziarvi e continuo ad ascoltarvi con grandissimo interesse.